Su Radio DJ è arrivato in studio Jonathan Zenti, buongiorno! Ciao Alessandro, buongiorno! Tutto bene? Tutto bene, ben arrivato, ben arrivato. Jonathan con il suo libro uscito per Black Edizioni che si intitola Problemi. Esatto. Ed è una guida per capire l'assurdità del presente, perlomeno questo è scritto bello grosso lì vicino al titolo. Chiaro. È chiaro lì. Il titolo con una parola sola facile da ricordare anche per me. Perché ce ne sono di assurdità nel presente, adesso ti interrogo un po' sul tuo stesso libro. E Problemi è il titolo anche del tuo podcast. Esatto. Ho sentito il tuo podcast, ho sentito la prima puntata, quella su Louis C.K., prima di leggere il libro e sentendo quella puntata ho detto, forse Jonathan non mi sta tanto simpatico. Poi ho letto il libro e invece ho detto, no, invece è molto simpatico, è molto interessante. Si vede che sono diventato simpatico in questi due anni. Nel frattempo, esatto, quanto tempo è passato tra la prima puntata su Louis C.K. e questo libro? Era novembre del 2019, quindi prima della fine del mondo per come lo conoscevamo, mentre il libro l'ho scritto tra febbraio e marzo e poi ripreso un po' a giugno di quest'anno. Sì, no, credo che in realtà il segreto sia che il libro è molto vario su tanti argomenti e ci sono tanti punti di vista su cui, su alcuni sono d'accordo, su altri no, però insomma è bello perché quando vedi che hai scritto una persona intelligente ti viene, voglio di confrontarti. Il podcast forse era talmente specifico su una cosa che io dico, marcamiseria quella roba lì. Certo, ma poi nel frattempo, in questi due anni e mezzo, avevo tentato anche di fare un giornaliero durato due mesi e mezzo. È dura, eh? È dura trovare cose da dire tutti i giorni. Soprattutto dura metterci il tempo per farlo anche, cioè trovare due o tre ore ogni giorno per leggere, studiare, registrare, annotare. Eh sì, perché per avere cose da dire devi prepararti, per prepararti serve tempo. No, no, infatti è dura. A me succede sempre con le Moleskine, ne compro a milioni perché dico qua appunterò tutti i miei pensieri, poi mi rendo conto di non averne e quindi rimango... Le prime sei pagine, curatissime. Scritto largo, in ordine e così, e poi mi rendo conto di non avere più tante cose da dire. Allora, senti, come è nato questo libro e qual è stato il primo problema che tu hai detto? Secondo me qua devo fare un attimo di chiarezza, devo provare a capire, immagino prima di tutto con te stesso e poi raccontare alla gente come affrontare un determinato tema. Allora, il libro è nato come, diciamo, ispirazione contenuti dal... nel momento in cui facevo il podcast, poi durante la pandemia i temi erano molto cambiati, dalle reazioni che avevo da chi li ascoltava. Erano persone che non potevo incontrare perché eravamo ancora tutti distanti, quindi mi scrivevo su Instagram e basta, ma mi scrivevano delle cose molto profonde che stavano vivendo e che volevano condividere con me e quindi da tutte quelle riflessioni avevo capito che c'erano dei problemi comuni in cui facevamo tutti la lotta nel fango ogni giorno, le cose per cui litigavamo su internet, le cose che ci triggeravano. Per cui a un certo punto ho detto, provo a raccoglierli, a metterli in ordine e questo è stato un po' l'incipit. I capitoli, diciamo, il libro prima l'ho scritto su Excel, quindi ho fatto proprio tutto l'allogazione e quindi è stato un lavoro di riordino, il primo che mi sono messo a scrivere è quello che c'è all'inizio del libro, quello sul genere, perché anche per persone che avevo vicino a me in quel momento con cui lavoravo era una questione molto urgente e anche molto triggerante, quindi sono partito da lì e poi tutto il resto invece è venuto piano piano e li ho divisi tra problemi che avevano anche i nostri nonni, quindi tradizionali, quelli un po' più digitali di adesso e poi i problemi con noi stessi, cioè quando noi siamo l'altra persona con cui abbiamo a che fare. Il primo capitolo di cui parlavi, quello sul genere, nasce da anche un racconto personale di un tuo viaggio per un concorso di podcast? Sì, un premio. Un premio, perché tu sei, è corretto, sei uno dei primissimi in Italia ad aver fatto podcast, credo? Sì, in realtà appunto i podcast si fanno anche in Italia dal 2006-2007, quindi c'è sicuramente qualcun altro che può dire di essere arrivato primo. È uno dei primi un po' seguiti forse? Forse sì, ma più che altro io forse un po' non per volontà ma costretto perché facevo audio e volevo un po' avere dei pubblici diversi, a cavallo tra il 2014 e il 2015 ho fatto delle cose negli Stati Uniti e all'estero e quindi ho fatto delle cose là un paio d'anni prima che partissero poi i podcast qui. Là dal punto di vista dei podcast sono quanti anni in luce, avanti, non troppi, irraggiungibili? Com'è la situazione? Direi tre anni solari. Tre anni solari, vabbè c'è un po' di anticipo. Sì, 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 c'è un po'. Anche perché là ci sono delle star sicuramente che guadagnano cifre incredibili. Qui in Italia credo che nessuno riesca a, non dico raggiungere quelle cifre ma che manco con la televisione ce la si fa, però a poter dire è il mio unico vero lavoro, c'è qualcuno che riesce a mantenersi solo? Forse adesso, nell'ultimo anno sì, forse qualcuno che proprio solo con il contenuto io ho una forma ibrida tra le cose mie e le cose che faccio per altri che più o meno mettono insieme un reddito dignitoso. Ok, allora, prima stavi dicendo che hai iniziato questa lista di problemi e di assurdità del presente su un foglio Excel, le hai ordinate, dicevi su alcune c'era proprio urgenza di parlare perché erano temi che triggerano. Partiamo un attimo dal triggering come filosofia di vita e io è una cosa che faccio un po' fatica a spiegare a me stesso perché mi sembra che i problemi veri, sostanziali, siano sempre gli stessi che sono quelli che poi devono essere risolti da elementi evolute, lo squilibrio sociale, l'estrema povertà, in questa epoca di grandissima condivisione sono affiorati tanti altri problemi importanti, però io non capisco questa volontà di farsi del male. Sì, sì, esattamente, questa volontà di farsi del male su questi problemi. Beh, un po' credo che ci sia proprio un meccanismo vitale, cioè di qualcosa che ti dà delle scosse di adrenalina immediata. A me in particolare appunto mi triggerano, mi fanno partire gli incastri che non si incastrano ma bene come gli altri direbbero. Quindi quando qualcuno dà delle soluzioni molto veloci e dice hai questo problema, si risolve così, ma se tu li metti in prospettiva dice no, se tu fai quello non si risolve così e quindi lì mi agito e vorrei ridiscutere e dire no, ma non è così. Eh cavolo, questa deve essere una roba di karate, perché capisco hai perfettamente ragione, se io sento una roba del genere dico semplicemente, ah ma che coglione, basta, e me ne vado da un'altra parte. Anche quando vedi che ci sono tante persone sotto che dicono sì, lo farò, lo farò. No, ci sono cose che mi fanno deprimere appunto quando vedo su, esatto, un post di qualcuno che scrive un'idiozia e vedo sotto gente che va dietro a quell'idiozia, ovvio che dentro di me dico mamma mia al mondo come sta andando, però poi dico anche vabbè vado da un'altra parte, vado da un'altra parte, però è anche una cosa da cui poi mi disintossico, cioè l'importante è che io ne sia consapevole, mi faccio dei periodi di pausa. Eh stacchi tutto, è l'unico modo. Stacco, metto oscuro delle pagine che so che mi triggerano. Però questo significa che la maggior parte dei problemi per cui stiamo bisticciando in quest'epoca così sono dettati dalla sovraesposizione che se ne ha sui social, dall'iperconnessione, basterebbe essere un po' più isolati e si può vivere meglio, no? Sì, io credo che appunto chi poi amministra le piattaforme ha due scelte su come fare i soldi. Uno è far interagire le persone facendole litigare tra di loro, l'altro è far interagire le persone facendo costruire loro qualcosa. Il primo fa i soldi prima, l'altro ci vuole più tempo, crea più valore, più solido. Cioè se vogliamo costruire con una discussione servono i manovali adeguati, io non credo che noi siamo dei manovali adeguati per costruire quando c'è un tema, cioè pochissimi, pochissimi che poi vengono risucchiati da tutto il resto. A volte sì, a volte anche inconsapevolmente si possono fare delle cose positive, molto spesso le persone che magari hanno successo con qualcosa e gli chiedono ma come hai fatto? loro non lo sanno, però hanno fatto qualcosa di positivo per le persone che li seguono e con cui si mettono in contatto, in relazione anch'io molte volte non so cosa faccio ma le persone mi dicono ah grazie che hai detto quella cosa, hai fatto quella cosa, io neanche mi ero accorto. Però ovviamente essendo che poi tutte queste piattaforme devono essere vendute, si fa prima far litigare la gente. Si fa engagement, cioè si deve creare discussione. Stavo leggendo, hai fatto anche una cosa molto interessante, hai messo una fascetta su questo libro proprio con, credo, la trasposizione del tuo foglio Excel, no? Cioè proprio l'elenco, l'elenco dei temi, l'elenco dei temi. Ho letto un pezzo molto divertente dove tu parlavi, non mi ricordo più se del patriarcato o del termine tossico legato alle relazioni, utilizzato ormai un po' come il verbo puffare. Sì sì, tossico. È tossico, tossico. Com'è che è tutto tossico? Ed è sempre colpa degli altri, soprattutto quando qualcosa è tossica. Non siamo mai noi la causa della tossicità. Perché è facile da applicare sopra una cosa che non ci è andata bene, come mettere fragile su uno scatolone. Magari non è fragile, però per essere sicuro che lo trattino bene... Tu scrivi così, tu scrivi così, eccetera. In realtà appunto mettere l'etichetta di tossico a qualcosa da cui siamo usciti con le ossa rotte per diversi motivi non risolve intanto a sistemare tutto quello che è rimasto rotto in quella cosa, ma neanche a capire come non farsi male anche nella prossima. Quindi entrare nella parola tossico, come ho cercato di fare nel libro, e cercare di capire quali forme ci sono e quanto le alimentiamo noi, oltre che subirle dagli altri, è anche un modo per saper navigare poi il problema, starci dentro senza farsi fregare più volte o almeno commettere sempre lo stesso errore. Sì, guarda, io a volte appunto pensando a queste cose dico, mamma mia, forse sono proprio già diventato uno di quelli invecchiati male, così, no? Perché quando sento le cose, relazione tossica, ok, raccontami un po' cosa è successo, e quello che mi viene raccontato mi sembra vagamente simile a quello che tutti abbiamo vissuto più o meno nella vita, no? Cioè la vita è fatta di incontri con persone sbagliate, nel momento sbagliato, per cui tu sei stata la persona sbagliata, e io l'ho sempre intesa un po' come la vita. Secondo te abbiamo sempre sbagliato noi e ci siamo autoinflitti, una sofferenza immotivata, quelli un po' delle generazioni non mai passate, o hanno ragione i nuovi sensibili a volersi difendere da tutto quello che non li... Allora, diciamo che quelli che appunto chiamano i nuovi sensibili, o appunto tutte quelle reazioni abbastanza spontanee, anche molto voluminose, sembrano molto grandi, una cosa di cui hanno la responsabilità è che ci sono diversi gradi di distinzione, e ci sono per esempio nel mega scatolone delle relazioni tossiche, delle relazioni che sono anche pericolose, fisicamente pericolose, nei quali ci sono interventi, quindi paragonare una serata andata male, questo è successo anche quando dopo i primi casi di MeToo ne sono arrivati altri che hanno fatto più discutere, che erano meno chiari, alcune erano serate andate male con persone con cui non era divertente uscire, altre invece erano situazioni lavorative, pericolose. Ma infatti il grosso rischio a volte è di depotenziare l'urgenza e il bisogno di aiuto delle vittime reali, se tutti abbiamo questa necessità di passare in qualche modo da vittime nei confronti di qualcosa, no? Questo è un rischio. Dall'altro lato, forse nel passato, come dicevi tu, anche per eccesso di entusiasmo, per eccesso di speranza, non sapendo che una volta chiuse le porte, dietro le porte chiuse succedevano delle cose che non dovrebbero succedere, forse ci siamo fatti più male. Ci siamo fatti andare bene delle cose che avremmo fatto meglio a lasciare prima. Per esempio penso alla generazione dei miei genitori, dei miei nonni, dove bisognava stare assieme a tutta la vita. Quella era la regola, dentro quella regola forse c'erano delle cose che ci si poteva evitare. Siamo con Jonathan Zenti, autore del libro Problemi, guida per capire l'assurdità del presente, un libro che tratta tanti argomenti di cui si sente parlare appunto negli ultimi anni, il sessismo, la vendetta, la violenza, il vittimismo, cosa vuol dire essere influencer, la schwa, la salute mentale, la schwa. Eh. La lingua. Come si muoverà, secondo te, la lingua? Probabilmente come si è sempre mossa, cioè trovando dentro se stessa dei cambiamenti, delle soluzioni, se vai a vedere come si parlava nel 600, nel 500, è sicuramente evoluta insieme all'evoluzione delle cose. Sì. Io nel libro, io volevo iniziare il libro riferendomi direttamente a chi legge il libro e la prima frase che ho scritto è, caro lettore, e subito ho detto, oddio santo, già ho beccato un muro. Sì. E quindi poi mi sono messo a cercare quale volevo che fosse la forma, l'asterisco, la schwa, eccetera. Però non mi sembra di aver letto, poi si è andato abbastanza sul dritto, no? Sono andato dritto perché ho trovato questo escamotage che anche, devo dire, mi piace molto, che è quello di riferirmi a chi legge come persona. Ah, ok. Quindi dico, cara, persona, leccerice, eccetera, e a volte uso questo femminile neutro generale, per cui a volte quando devo dare degli aggettivi collettivi suonano al femminile, ma in realtà è correlato con persona, che è un termine neutro, cioè è nato neutro probabilmente nella lingua etrusca e che serviva proprio per mettere in scena le maschere nel teatro che non dovevano avere un genere definito. Sì. E quindi lì ho trovato la mia soluzione e quindi l'ho scritto così. Io tante volte ho scherzato sull'asterisco, però in realtà credo che sia una formula... Io penso, cioè non io penso, insomma, la lingua, come dicevi tu, cambia, si evolve. Credo che si evolva sempre per necessità e non perché qualcuno decide che si debba evolvere. Per esempio l'asterisco è l'equivalente di, nei documenti, il, la. Al posto di fare il, sbarra, la, metti un asterisco, è più comodo. Ecco, io penso che la lingua si modifichi quando c'è un'esigenza di comodità e debba semplificare la vita alle persone più che complicarla. Infatti per me è stato diverso perché io rispetto a tanti che stanno cercando delle soluzioni per ampliare un po' la rappresentatività della lingua, è che io ho a che fare con la parola parlata tanto e non scritta perché faccio le interviste, monto, lavoro, scrivo per leggere. Però anche la parola scritta, infatti dicevo, sui documenti la trovo un grande risparmio, metter l'asterisco, no? Su un libro secondo te funzionerebbe? Cioè una storia scritta in cui tu ogni quattro parole ti trovi un asterisco potrebbe funzionare secondo te? Per esempio nelle mail non mi dà fastidio, anzi quando la comunicazione diretta di servizio non mi dà fastidio. Il problema del libro, di come io leggo i libri, è che io li leggo a voce alta in testa, cioè ho una voce che li leggo e quindi lì si incastra. Lì però forse l'autore ha stabilito in maniera autonoma se un personaggio è maschile o femminile, quindi ha una sua autonomia, quindi può andare tranquillamente avanti. Patriarcato è un'altra parola di cui si sente tanto parlare. Il patriarcato è un problema che poi è rientrato come sottoproblema in quasi tutti gli altri. Perché il patriarcato adesso è un po' l'olio di palma, qualunque cosa è sempre colpa del patriarcato. Senza appunto andare a vedere che cosa vuol dire lì dentro, quindi per esempio per me la questione, ma adesso si è visto anche in Inghilterra nelle ultime settimane, la questione poi invertendo il genere non sempre cambia o non in maniera così automatica come si pensa in una direzione positiva o negativa, ma dipende proprio da, è più la parte arcato della parola che non è la parte matri o patri della parola, bisogna capire che organizzazione c'è, come sono le regole, come si fa, come si vede il merito, quindi è più una questione di come si organizzano le cose, quindi poi nel libro ho cercato per ogni problema di spiegare come le viviamo, quali sono le regole che ci diamo adesso e quali potrebbero essere delle nuove regole per il futuro. Giusto, giusto, sono super d'accordo con te, rimane sempre quella roba lì di Lucy K che ne parliamo dopo la prossima canzone. Allora Jonathan, siamo arrivati al punto nodale perché appunto in questo libro affronti un sacco di temi, un sacco di temi complessi, mi sembra che tu lo faccia con grande equidistanza dalle polarizzazioni, cioè mi sembra che tu dia sempre un'opinione che è sinceramente la tua. Lo hai fatto sicuramente anche nel podcast in cui si parlava di Lucy K, essendo la prima cosa che ho sentito, però ci sono rimasto male perché non ho capito, non ho capito. Tra le altre cose nel podcast ne parli anche con la Chiara che è in onda dopo di noi, quindi adesso magari la incontriamo fuori onda e tiriamo dentro. Tra un programma e l'altro, tra un programma e l'altro, no, non cerchiamo di capire. Allora, Lucy K, comico, uno dei top 5 nel mondo? Sì, nella storia degli stand up. Sì, 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 uno dei top 5 nel mondo. Coinvolto in periodo Me Too da uno scandalo sessuale in cui è venuto fuori che, anche qui io, poi mi sono sempre interessato il giusto, quindi magari sto sottovalutando delle cose. In un periodo in cui non era neanche ancora così famoso. No, cominciava a essere famoso. sul luogo di lavoro? Non so quale sia il luogo di lavoro. Il retro degli stand up comedy, degli spettacoli live. Ok, quindi diciamo in teatro. In camerino. In serati in cui oltre a lui si esibivano anche altri comici e altre comiche, con alcune di queste comiche ha avuto degli episodi sessuali, giusto? In particolare, secondo me è la goffaggine del gesto che lo ha anche un po'. In particolare pare che a un certo punto la cosa che lo eccitasse forse tirassi fuori il pisello e masturbarsi davanti alla sua partner. Chiedendo. Chiedendo. Posso farlo? Posso farlo, esatto. Questo secondo me è un po' il nodo che non mi ha mai fatto capire bene, 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 bene. Perché da come è stato raccontato chiedendo, io non penso che, tipo se io adesso esco in corridoio, incontro una mia collega di Radij e dico scusami posso tirarmi fuori il pisello? Giustamente c'è qualcosa che non va. Lì mi sembrava più una cosa consensuale anche da quello che poi raccontavano le vittime, che dicevano, mi ero fatta affascinare dal suo ruolo, dal suo magnetismo, dal suo essere anche un figo per quello che diceva. E quindi sono finita in questa cosa. Poi mi sono resa conto dopo che probabilmente ero stata un po' leggera forse in questa cosa qua e da lì è venuto fuori il trauma. Mi sono perso qualcosa? No, no, è esattamente così. In realtà lui un po' di potere ce l'ha sempre avuto perché lui veniva dalla scrittura televisiva per i programmi comici. Quindi c'era la dinamica una porta di accesso. Vuoi diventare una star? Sì, o comunque vuoi lavorare e fare l'autore e l'autrice in televisione, comunque è fare il controllore di un cancello. Ma lui metteva sul piatto questa cosa? No, non la metteva sul piatto direttamente. Tu dici era implicita. Però è implicita. L'altro aspetto è che era una situazione in cui è un po' tardi per dire ti va bene o non ti va bene. Cioè comunque quando ti trovi in camerino con una persona che è comunque quello che chiude gli spettacoli da sera, dove tu comunque sei più giovane e già la richiesta è così diretta senza che ci sia stato un tipo di avvicinamento prima, è comunque una richiesta difficile. Perché non c'è stato, cioè non erano relazioni, non c'era un flirting prima. Tant'è che appunto ha replicato così anche in maniera seriale, diciamo così, cioè una topoletta che è proprio una roba che a lui piaceva. Poi secondo me a lui tecnicamente l'hanno fregato tra virgolette due cose. Uno che era tanto famoso, cioè a un certo punto è diventato il più ricco di tutti, il più potente di tutti e quindi nel momento in cui sei così grande e tieni, sembra che tu tenga tutte le porte aperte della tua vita, della tua quotidianità, parli delle tue figlie eccetera eccetera e ne tieni una chiusa, a un certo punto il pubblico vuole vedere cosa c'è di dietro. Quello un po' l'ha fregato. Però questo è un tecnicismo, no? È un tecnicismo. È un tecnicismo, però per esempio un altro comico che a me piace che si chiama Doug Stanhope, in un libro che ha pubblicato prima di questo scandalo, faceva vedere una foto di lui a pantaloni abbassati con il pisello fuori, abbracciato a lui CK e quindi poi in uno stand up special diceva ecco mi sono vendicato prima per tutte le comiche prima ancora che questa cosa succedesse, però lui ha una dimensione molto modesta e i suoi lati negativi li mette in scena tutti, quindi non c'è neanche quella curiosità del pubblico non coinvolto direttamente di vedere qual è la parte oscura di quello famoso. Poi l'altra cosa invece è una cosa più comica, cioè che lui ha fatto finta di ridere di tutto e di mettere tutto in discussione, mentre di quella sua passione, di quella sua tendenza non ne ha mai parlato prima e non ne ha mai parlato neanche dopo. Però cosa lui scelga di raccontare è un suo diritto. Sì però io per esempio che sia nel libro come sai ma anche nel podcast parlo tanto delle cose mie, se ad un certo punto qualcuno tirasse fuori una parte della mia vita e io negassi che è esistita, le persone che mi ascoltano perché credono alle storie che io racconto delle mie vite personali non mi crederebbero più. Comunque si rompe un patto di fiducia in quel momento, nel momento in cui tu ridi di tutti i tuoi difetti tranne uno. No chiaro, certo questo sì, ma esiste anche con artisti, se ti dicono appunto una cosa per tutta la vita e poi vedi che non è così, tu dici ah cacchio mi sono fatto fregare. Da qui a distruggergli la carriera per un certo periodo mi sembra un salto grosso, no? Sì poi io per esempio io non credo che sia più una paura quella di pensare che queste persone che gli venga distrutta una carriera o che vengono cancellate, in realtà anche lui è caduto molto in piedi, gli è toccato venire a fare degli stand up a Milano che magari non sarebbe mai venuto. Però credo che abbia perso svariati, milioni di dollari, cancellati delle serie pronte. Sì però non è finito sotto un ponte, comunque ha deviato la sua carriera, l'ha mandata in un'altra direzione. Comunque guarda la cosa del podcast, le cose che ti ho chiesto è perché anch'io poi ne sapevo poco, infatti volevo capire meglio come fosse andata la vicenda, quindi non entro nel merito di chi ha ragione e chi ha torto. La cosa che mi lasciava un po' così è che c'è un grande attacco a chi è andato a vedere lui CK, perché tu dici se lui CK ha fatto quelle cose lì, tu che lo vai a vedere sei una merda, io non sono andato a vederlo perché ero via, però dicevo cacchio avrei voluto andarlo a vedere, quindi dicevo ma quindi sono una merda perché volevo andare a vedere lui CK perché mi fa ridere? E allo stesso tempo però io metto anche in conto il fatto che io sono una merda, perché dico che è una merda chi va a vedere lui CK, cioè comunque l'aspetto di cui parlo è anche questo mio bisogno di triggerarmi e prendermi qualcuno senza guardare la cosa in maniera un po' più ampia, tant'è che appunto l'intervista, la chiacchierata con Chiara... Lei è andata alla fine, no? Lei è andata sentendosi in colpa. Lei aveva le posizioni mie, però è andata e poi in realtà ha passato lo spettacolo più a guardare la gente che rideva. Sì, sì, ah giusto, giusto, cose inutili. Mi ricordo, certo, 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 quindi io non ci sono andato ma avrei voluto, sono merda medio. Eh, forse allora avrei detto così, poi è tornato lui CK qualche mese fa. Sei andato a vederlo? Non sono andato a vederlo. Io la seconda volta sì. Però ci ho pensato. No, io la seconda volta, la seconda volta sono andato, faceva molto ridere. Poi appunto a me non è mai piaciuto tanto neanche prima. Ah, ok, ok, sì, 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 ok, ok, va bene Jonathan, grazie mille per la chiacchierata. Jonathan Zenti, problemi, una guida per capire l'assurdità del presente, eh, Black Edizioni lo trovate in libreria. Un abbraccio.